Allora, buonasera, in cinque minuti iniziamo il Best in Show, come sul programma stampato sul catalogo, Best Baby, Juniores, Giovani, Veterani, Coppie e Gruppi, Miglior Soggetto di San Marino, i dieci raggruppamenti e poi il Best in Show finale. Prego intanto tutti i baby nel pre-ring per cortesia. Quindi rispetteremo il programma stampato sul catalogo, Baby, Juniores, Giovani, Veterani, Coppie e Gruppi, Miglior Soggetto di San Marino, i dieci raggruppamenti e il Best in Show finale. Ok, iniziamo il primo giudice per il Best Baby dall'Austria, Karl Reiss. Allora, vediamo che il giudice... Ok, flat-coded. Eா. E Allora, quindi abbiamo qua i baby, soggetti tra i 4 e i 6 mesi, flat coated, afghano, pastore bianco svizzero, siberi anaschi, Boston Terrier, Jack Russell, George Schnauzer nero. Allora, Boston, siberi anaschi, afghano, grazie agli altri, usciamo dalla parte opposta, signorina, si esce dalla parte opposta. Ciao. 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 Quindi abbiamo il Boston, l'Afghano e il Siberian Aschi. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!